Sono due volte che vengo qui, la prima e l'ultima, insieme. Caterina, non è bello, mia moglie me l'ha detta questa parola davvero, dice pieno mio, tu al buio sei chiunque, poi accendo la luce e me trovo te. Ma io parlo con Alessia? Ho capito, ma te devi fare i tuoi, tu e lei, se uno viene qui, d'accordo, c'ho anche un corpo, sì. Dai, ma tu sei anche amico di Brad Pitt, ora è vero che l'hai doppiato una sola volta. Sì, Sandra Cerbo è il bravo doppiatore, però io lo so. Guarda, ovviamente è un fotomontaggio. No, andavamo insieme perché abbiamo doppiato Simbad, è uno dei due film che ho fatto di Brad Pitt, insieme all'esercito delle 12 scimmie, anche se ripeto, è Sandro Cerbo il suo doppiatore, e lui mi ha detto, thanks for translation, grazie per la traduzione. Io gli ho detto, I am your voice, you are my body. Stava con una guardia del corpo che era così, e ho fatto, vorrei fare una foto di... So, Pino insegno in Italia, punto. Cioè, lì no, a Hollywood no. Però devo dire che non è male, anche se il Brad Pitt è bello è quello di vento di passioni, insomma. Mi sento molto, veramente, a cena con le amiche, hai visto? Brad Pitt a vento di passioni. Scusate, ma appunto, Pino è Pino, e lo sappiamo... Non ti riprendi, cos'è visto che mancano applaudito? Cioè, ha lanciato la cosa dicendo, beh ragazzi, però Pino è Pino, si chiama Carrettella. Si chiama Carrettella, quando un attore esce in scena. Fermi tutti, fermi tutti, perché potete applaudire, potete applaudire, visto che abbiamo voluto omaggiare Pino con questo filmato. Ma non mai omaggiare. E tu parli, non mi fai... Non capisco quello che dici. Ecco, certo, vai. Perché dovrei brindare quando la donna che amo ha sposato mio fratello? Perché dovrei brindare quando qualcuno ha cercato di uccidermi? Perché nonostante questo io dovrei brindare? Perché dovrei brindare? Perché so troppo fia. Andiamo al vostro successo. Sei bella, fatti vedere. Sei meravigliosa, fatti osservare. Sei bellissima, fatti... Bello vedere queste cose da vivo. Ti sei ripreso? Da vivo. Sì, no, fa capire che sono passati un po' di anni. Però, c'è, il più cresco è più... Ben vecchio. Pensa che io ti trovo anche migliorato. Pensa te. Mi l'hai detto in un modo, cioè... Ma vivo, sono ospite in una trasmissione importante. Io avevo chiesto a Alessia, tua moglie, e niente, mi ha detto no, perché fa il mercantinfiere, il protagonista è lui e quindi deve venire lui. Alessia fa sempre un passo indietro. È una donna, è una moglie strepitosa, è un'attrice. Sì, è straordinaria che tu la conosci. Perché sa che facendo indietro sta avanti a te di cento. Sempre, no, ma infatti vanno a fare i complimenti a lei, è quella la cosa, è incredibile. Allora, il nostro 30 volte è pronto per te. Ah, Dio, Dio. E qui ti mostrerò una scelta tra l'una e l'altra strada. Ad esempio, fra Hollywood, la collinetta di Hollywood, dove tu potevi anche andare lì a scalarla, volendo. Amore mio, sono io che ho detto no. Ma niente, tu vuoi restare a Monteverde, vicino al Gianicolo. Ti puoi ridere? A me mi pia l'ansia solo quando supero Aurelia Antica, vado giù. Io già vedendo Quark mi pia l'ansia. Cioè, brucia Hollywood con tutto il rispetto di Hollywood, ma a Monteverde no. Ma perché vuoi stare proprio lì? Ma perché il primo bacio l'ho dato a Monteverde, dove abitavo. Si chiamava Paola. Siamo a 11 anni e abbiamo fatto Sega al Catechismo. 11 anni? Sega al Catechismo abbiamo fatto quel giorno. Mi prendi in giro? No, è vero. Cioè, io facevo le prove col Cuscino, 11 anni, parlo praticamente di 50 anni fa, in cui non era una cosa facile. Però a chi cadeva la palla doveva dare un bacio a Paola, ma già sapevano che ero io. Per cui lì ho scoperto di essere più forte dei buffon, perché paravo tutto. Poi è caduta e c'è stato questo bacio indimenticabile dietro un albero. E vorrei dire che Paola è qui, ma non c'è. Dopodiché le scuole a Monteverde Vecchio, le elementari, l'asilo, le medie. E tutto questo succedeva in una casa dove eravate tanti. Tre famiglie in un appartamento, però sono gli anni più belli della mia vita. Ecco, tre famiglie in un appartamento. Come vi diridevate la cucina? Oppure mangiavate comunque tutti insieme? Eravamo sei cugini più sei genitori e nonna Teresa. Che poi, non capivo, la calabrese è proprio Tereggio Calabrese. Non capivo quando parlava. E mi davi i soldi e io li prendevano. Però era bello perché ci divertivamo. Perché, oddio, faccio i discorsi delle persone grandi. Ma tu sei grande. No. Va bene, è stato bellissimo. Hai detto, 50 anni fa, avevo 11 anni. Sei tu che hai rivelato che hai 61 anni. Era bello, il sogno di mamma era proprio quello. Un giorno a Monteverde, che poi è un bellissimo quartiere, anche se prima era più popolare, al sogno era una villettina dove lei poteva sognare, eccetera. E successe tutto questo. Purtroppo il destino ha remato un po' dall'altra parte. Moriva mamma e il giorno dopo nasceva mio figlio. E il giorno dopo debuttavo su Rai 2, proprio compagno di scuola. E il giorno dopo ci fu il funerale. Mamma, che montagne russe di emozione. Dopo entravo in quella villetta che mamma aveva visto tanti anni prima. Non c'è stato il tempo di pensare a niente. Però l'ha vista, insomma, ha visto... E come non ci riesco a parlare. Allora, Pino. È stato bello questo, dai. Vederti emozionato, sai che non... No, ma sai, io sono sempre vero, tu mi conosci. Non è che mi preparo... Però... Che sa cosa, però... Quando tu mi dici, la villetta era pronta, nasce mio figlio, lei se ne va, debutto... In teatro la sera stessa che mamma sei andata, sì. È stato, sì, un gioco del destino amaro da quel punto di vista, perché vedere quella terza fila vuota... Duro. Vabbè. Pensavo di essere più forte. Ma non lo sei. Davanti alla mamma si commuovono i figli. No, no, è sempre presente, perché anche quando succede qualcosa, un attimo ti viene di fare uno squillo. E tuo primo figlio come si chiama? Il primo figlio si chiama Matteo, poi Francesco, poi c'è Alessandro e Valerio, quattro maschi. Ho finito i nomi. Ho finito i nomi. Francesco è un caso? È un caso, Francesco? Ma sai, ho scoperto dopo che mamma si chiamava Francesca Romana. Noi pensavamo che fosse sempre Romana, mamma. Invece dopo, quel giorno, scoprì che si chiamava Francesca Romana. Lui nacque il 20 e mamma nacque il 20. Insomma, lei vuole rinascere maschio. Mi dispiace solo che mia madre non abbia conosciuto Alessia, ecco. Questo mi dispiace tanto. Tua moglie. Sì, sì. E sarebbe molto piaciuto. Sì, tanto. Andiamo avanti con le volte buone o meno buone. Allora, intanto abbiamo tritato Hollywood e ci teniamo Monteverde. Monteverde, tutta la vita con i miei amici. Per lui solo quello, assolutamente. E qui, qua è una fissa che abbiamo, capito? Brad Pitt o Giancarlo Magalli. Ora, questi due accostamenti, scusate. Non c'entra niente. Eppure? Però c'entra tanto, perché sì, Brad Pitt, ho avuto quella fortuna di doppiare in quel film. Però, ciao, Brad, voglio bene anche perché non sei poi ingranché fisicamente. Eh sì, certo. Ora teniamo Magalli per amicizia. No, Magalli tutta la vita. Non è per amicizia. Giancarlo, noi debuttammo nell'85-86 con la Buonaccorti, dove Magalli era autore di Pronto chi gioca. Alla Dear proprio, con la Baccarini, Rassel Rassel, Buoncompagni ebbe questa intuizione di questo quartetto. E Magalli poi condusse al posto di Enrica e noi diventammo molto amici con Giancarlo. Tanto, così tanto, che l'anno dopo Buoncompagni fece Domenica Inn, ma non ci portò con sé. Perché, insomma, ha fatto un'altra scelta. Magalli ha capito che quello potrebbe essere la fine di un bellissimo inizio. E invece ci vuole, con lui fisso, a Domani Sposi, che è il programma che poi sono nati i spin-off per tutta la vita, qualsiasi cosa. Per cui, quotidianamente con Giancarlo. Che la cosa bella è che Giancarlo non ci ha mai presentati nel modo giusto. Ha detto, adesso toccherà la premia da ditta, mano al telecomando, potete andare. Potete cucinare, c'è la premia da ditta. Oppure c'era un genetista che ha detto, se le madri avessero fatto un'analisi adeguata, loro non sarebbero qui. Ma purtroppo sono qui. Insomma, non c'è stata mai una volta che Giancarlo... Però è nata un'amicizia così importante, così forte, che, insomma, non posso che volergli del bene. Una persona amabile, divertente. Quindi lui vi ha dato la possibilità di continuare. È stata la vostra volta buona, magari. Sì, è stata la volta buona. Diciamo, lo sliding doors fu quella della casa di buon compagni che ci vide intorno a una piscina, dalla Lega al Brigata, direi uno, poi con G.B. Show. Divenne poi la premia da ditta e poi Giancarlo ci ha fatto continuare. Scusate, ma noi abbiamo gli esordi però di Pino Insegno con tutti i ragazzi. E che avrei, era il 1916, non si è stava. Eh, vabbè, addirittura. Beh, ero 85. No, prima. Vedi che sei tu che sottolinei l'età. Sì, ma perché... Poi dico, sei grande, no. No, ma perché mi devi trattare così, questa? Io non lo capisco. E sempre più allegramente, l'Allegra Brigata. Siamo in un famoso supermercato italiano. Ora mettiamo alla prova questa signora, la prova della fedeltà. Signora! Buongiorno, signora. Lei ha comprato un fustino di basso, non è vero? Beh, signora, lei cambierebbe il suo fustino con questi due? Certo! Come no! Capitassero tutti i giorni ste fortune! Signora Rick Forrester, lei è il padre di Ridge e Thorne e Christine. Io voglio molto bene a Ridge, Thorne e Christine. Sì. So che però lei vuol divorziare da sua moglie. Io voglio molto bene a mia moglie. Non lo so chi è. Quello originale! Quello originale è vero! Una puntata che fece 18 milioni d'ascolto, perché Beautiful era visto da 10 milioni di persone. Il nostro, certe volte pure di più, perché noi facciamo riassunto in 10 minuti, 15, di una settimana di Beautiful. Dove la regola era tutti con uno e tutte con tutti. Per cui si mischiavano tutto. E vennero loro. Fu pazzesco, perché accettarono questa situazione e a noi ci dietro una spinta enorme. Pazzesca! Come mai? Non lo so. Vabbè, sei una star. Non lo so, a parte che c'è un femore alto come me. E Ciufoli accanto a lui cosa pensò? No, Ciufoli insegnava a Thorne, perché venne pure Thorne che poi diceva, non capisco, Thorne a Sorrento. Abbiamo fatto delle cose pazzesche. Roberto è un po' il tuo terzo fratello? Beh sì, assolutamente sì. Roberto poi lavoreremo pure insieme fra un po'. Non ci siamo mai persi vista. Noi non ci siamo mai abbandonati. Siamo amici da piccoli, abbiamo intrapreso un viaggio insieme, siamo arrivati alla fine di questo percorso, al massimo di quello che potevamo dare. Abbiamo deciso insieme di continuare, ognuno per la sua strada. Io già avevo depositato qualche piede al doppiaggio, una conduzione, eccetera. Ma decidemmo insieme. Perché finire calando, in discesa, no, lasciamo un bellissimo ricordo. Per questo ogni tanto ci chiedo, ma tornate insieme, per carità, io con Francesca Tiettici lavoro al doppiaggio, Tiziana lavoro al teatro, siamo amici, ciufri, ogni tanto insieme ci stiamo. Però la paura è quella che possa rovinare quel ricordo bellissimo che abbiamo lasciato 28 anni insieme, facendo più di 1200 puntate insieme. Un giorno vedi tutti e quattro qui sul divanone. Sì, c'è il posto, il bastone. No, dai, facciamolo presto, facciamolo presto. In realtà, scusami. Non si può parlare, cioè, vieni intervistato da me. Roberto, ciufoli, io l'ho chiamato, ho detto, vieni, ma a un certo punto ho capito perché. Perché? Perché. Me soffre? Forse sì, senti? Ah, c'hai, ma, scherzo. Ciao Pino, sto correndo a casa per vedermi il tuo nuovo programma, Mercante in Fiera. Beh, poi nuovo per te, non è perché l'hai già fatto, quindi è nuovo per me perché ancora non l'ho visto, quindi vado a correre a vederlo. Beh, ti volevo augurare veramente tanta portata, quindi volevo fare gli auguri. No, ma gli auguri non si fanno, in questo caso nello spettacolo non si fanno gli auguri. Forse neanche al compleanno, ma tanto poi non è il compleanno tuo, è il programma, Mercante in Fiera, quindi non parliamo di compleanno. Allora, che ti dico, in bocca al lupo, in bocca al lupo, ma non rispondermi, crepi il lupo, perché altrimenti si arrabbiano tutti. Si dice, in bocca al lupo, viva il lupo, che poi è detta così, perché salviamo il lupo, ma poi dopo un altro augurio, se uno ti fa in bocca al lupo, viva il lupo. E poi la balena chi lo spiega? La balena, e lei niente, non la salva nessuno. Vabbè, allora, salviamo anche la balena. Non ti dico merda perché non si può dire, e vabbè, ti dico che vado a casa, corro e che ne so, ti auguro tutto il bene. Bene, ciao. Perché ho detto, Caterina, io da luna mi metto su Rai 2 per arrivare a Mercante in Fiera. Dite, Roberto, scusa, spostati un attimo su Rai 1 e poi ti risposto. E poi su Rai 2 dopo la sera, non ho capito. 19.55. Sì, sì, più o meno, sì, quello è l'orario. Più o meno, mi piace questo primo. Sì, no, è una fascia durissima, per quello mi è piaciuto andare lì e navigarla quella fascia, perché sennò era troppo facile. E io credo in quel percorso. Perché le cose troppo semplici, ah, vai lì che già è un successo. No, no, l'abbiamo fatta. Lì bisogna navigare. Senti, con la Vigna Abate la Miss Italia come va? Bene, è la nipotina preferita o la figlia che avrei voluto avere, ma anche meno bella. Ma sì, ho l'età, l'età è giusta, per cui volevamo vicino sicuramente una ragazza che possa diventare la fidanzatina dei ragazzi italiani. No, perché c'è stato un gran da fare prima di arrivare alla Vigna Abate. Sì, no. Hai tenuto banco queste staglie. Ma non ero io, io ho tenuto banco, io tengo banco, Caterina. E c'è la gatta nera e c'è i net, non c'è più i net perché i net è cresciuta. E allora c'è un altro, l'altro no perché sta in barca e c'ha da fare. Ho capito, ma se una sta con Jim Morrison in un anno, non si può fare. Allora, dico, no, no, io sono sette mesi che tengo banco senza aver aperto bocca. Eh, ora che ci vuoi dire? Io voglio dire soltanto che... La storia che stiamo raccontando è di un professionista di 43 anni di vita artistica. E che sono pochi in Italia 43 anni, capito? E che pochi sia, capito? Sto in pensione da un anno e mezzo ma non mi hanno ancora data. Va bene, ho scoperto questa cosa e ho preso una tristezza. Ma no perché la pensione è una tristezza, perché è un obiettivo che uno dice quando finirò di lavorare vado in pensione. Quindi lo Stato ti dà la pensione? Ancora no, perché ho un contratto. Ah, quindi che potevi resta a casa allora? Mercantentiera, 19.55, lo sai che è Lavinia? Eh, che è Lavinia. Non ti avvicinata, va lì, stai lì, dai. No, Lavinia ha una voce pazzesca, ti ha fatto già una... Sì, stiamo registrando le puntate e fa dei vocalizzi molto bella, è brava, è cantante lirica, non lo sapevo. Pazzesca. Sì, lo so, ma pure lei è portatrice sana di femore, è anche lei per cui... Però era questo che mi piaceva di lei quando hanno scelto, hanno fatto i problemi. Ragazza semplice, molto carina, non apparicente, che non crea i problemi a chi sta guardando la famiglia, che noi abbiamo sempre amato davanti al televisore, come quando eravamo piccoli noi, mamma, papà, nonno, nonna, io, mio fratello, eravamo sereni davanti al televisore, mia nonna addirittura si truccava e si vestiva bene il sabato sera, noi non capivamo perché. E perché? Una volta abbiamo lasciato la sola davanti al televisore, lei accende il televisore, appare la signorina dei programmi e dice, signore e signori, buonasera, nonna, buonasera a lei, signora. Cioè, era convinta che c'era un osmosi magica, perché la televisione era magia, non era un elettrodomestico, ti faceva compagnia, era viva. Ora ci sono i social che ti fanno compagnia. Ecco, quello noi parliamo proprio. Hai visto l'ultima moda sui social? No, non lo so. Pare che gli uomini ogni tanto, così, vanno indietro nel tempo e vorrebbero stare durante l'impero romano e pensano all'impero romano. A te succede? Ma da quant'è che sei uscita da sto problema? È vero, è vero. Io ti trovavo meglio qualche... Hashtag impero romano. Signori. C'è un trend sui social di questa cosa? Succede questo, la baliva, la baliva, la baliva, sta crescendo e si sta perdendo. Ci sono in ascolto degli psichiatri che possono darci una mano. Ma tu non le sai questa cosa? Ma che hashtag? Amore mio, ma perché l'hashtag? Io ti dico solo una cosa, baliva, lo dico a tutti. 2023 anni fa c'era un signore che si chiamava Gesù, con tutto il rispetto, aveva soltanto 12 follower e uno ha abbandonato il gruppo. Guarda cosa ha fatto quel signore, no? Questo significa una cosa, che se fai delle cose fatte bene, che se giri in un certo modo dite le persone che parlano bene di te, il passaparola vince su tutto. Questa realtà dei social è pericolosa. Noi lo possiamo gestire, quelli cattivi, eccetera, ti fanno male, ma è gratuito. Lo sai gestire. Il problema che io metterei l'educazione digitale a scuola, per un motivo, prima in classe tu dicevi a quello ciccettello, che ne so, una cosetta anche non carina, ma rimaneva lì. Ora questa realtà lo porta a stare lì, nella scuola, nel quartiere, nella città, in tutta la nazione, in tutto il mondo. E un bambino o una bambina sa gestire una situazione così grave, così pesante? Questo è quello che mi preoccupa. Il social ha avvicinato tutto il mondo, ma ha allontanato quelli più vicini. E come fai con i tuoi figli, visto che ha età diverse? Sono quattro? Quello è il problema. No, i grandi ormai sono grandi. Quelli piccoli vanno gestiti, facendo vedere i film, perché il problema poi sono queste cose che durano 30-40 secondi e si abitano a quella realtà dei 30-40 secondi, il minuto, sotto il minuto, eccetera. Allora è pericoloso. Se li fai crescere un po' analogici, il mio amico che vedo di fronte sa cosa voglio dire del vinile, allora significa una cosa. Ecco, l'altro giorno ho cominciato a mettere i vinili sul piatto e diceva, ma come si cambia il brano? Ti alzi, prendi la capuntina e la sposti. Però lo sanno che tu hai qualcosa in comune con Giulio Cesare a proposito dell'impero romano? Non l'età, non la morte, non l'idi di marzo, sono di agosto. Dimmi Dario. Ciao Dario. Ciao, vent'anni fa, quando era più prestante, dicevano che somigliasse a Cluney e lui rispondeva Già a Cluney? Cluney, cluney malato, so un po'. Sì, dopo Domo una lunga malattia. Adesso che la villa di Laglio è in vendita, ti sei fatto sotto, spero. Sì, ho fatto i conti, ma so al lago e mi dà fastidio quel silenzio. Ma erai estinto al muto? Sì, no, no, io sto al baglio degli inquirenti, ma al muto non mi fanno, lì è Guagano nella villa di Giorgio, poi mi rompe perché poi lo arrivo all'improvviso, vuol mantenere, cioè così pure Sciaruston, se sveglia la mattina mi chiamo, sono cose che mi rompe un po' le scaccia. La mattina, lui vuole stare tranquilla a Monteverde, neanche a Colosseo, a Monteverde. A Monteverde, a Colosseo, bello, poi insomma bisogna visitarli, sti posti, noi che siamo di Roma non ci passiamo davanti, ma non ci rendiamo. Mio figlio lo portavo già tre volte a Colosseo, non ne possono più. Perché tu pensi che sono tutti come te, che cose devono essere tre volte prima di capire? Esatto, perché io dico mori di mamma e dovete capire dove siamo, anche perché è tanto bello andare lì. Dove? A Colosseo. Mi chiama Luca Gorda, la prossima volta lui ti parla il mio segnale, scadere il mio amico, grande amico Luca Gorda e tu sei felice. C'è amici tra di voi, vero? Tantissimo, tantissimo. Sai che c'è, lo dico sempre fino alla nausea, il doppiaggio è l'unico ambiente dove se perdi un provino tu lo vinci un altro bravo, te porrò dei 10 secondi, 15, dopodiché basta, perché sono tutti molto bravi, tutti e tutte molto bravi, perché è un lavoro meritocratico, non c'è un concorso per entrare, non te devi chiudere dentro un appartamento per due Abbiamo anche la testimonianza. Sì, sì, io lui e Francesco Pannofino lavoriamo e lavoreremo insieme, credo, molto presto, perché... Cosa c'è? Beh, c'è qualcosina nell'aria. E diccelo. No, ancora, non è che non ci può dire, se no non avviene, è che è un embrione importante, insomma, noi tre insieme, l'abbiamo testato l'altro anno a Boisanatomi da me e devo dire che c'è una bellissima alternanza, perché siamo tre completamente diversi e che prendiamo tre fasce completamente diverse, Luca è il bello, tenebroso, fa le fiction di un certo tipo, la sua voce, Francesco Pannofino, Boris è un po' più scacciato, divertente, bella voce anche lui, Denzel Washington, io magari fra i tre sono quello che in televisione conduce, fa il fine decitore, eccetera, per cui ci prendiamo in giro bene. E pensare che potevi essere un bravissimo calciatore? Sì, sì. Ma fu la tua volta buona essere fatto fuori? Sì, fu la volta buona essere fatto fuori perché giocavo in serie D, poi in serie C e 17enne sognavo... Un ruolo? Già avevi un ruolo definito? Sì, lavoravo sulla faccia perché ero molto veloce, facevo 10 e 7 sui 100, ero veramente terapia, ho fatto l'ISEF e non si direbbe da corpo, sono... perché stai a ridere? Perché ridono loro, ecco qua il pubblico! Ma no, che no, hai cominciato a te! Se staccano... Se io dico... Posso dirti una cosa? Io... Veramente sei in forma? Sì. Non so come eri a 16 anni? No, beh, meno... Cioè... Allora, lui correva, ero bravo e tutto, però cosa succede? Succede che c'è stata una cosa molto brutta nei miei confronti che non pensavo potesse accadere, inutile raccontarla per aprire una ferita antica, ma grazie a quella ferita e a quel no, io... C'è stato un no? C'è stato un no, ingiusto, ingiusto, io mi ritrovai da solo a 17 anni con in mano il cartellino, sei libero, lì sta a svincolo, vai dove vuoi, ma non potevo andare... Che avevi combinato Pino? Niente, ti giuro, come non ho combinato niente anni fa, e me lo so ritrovato a spasso, non ho pianto, ho pianto da solo quel giorno perché non volevo che papà e mamma vedessero quella grande delusione nei miei occhi, perché volevo e ci tenevo ad andare ai mondiali nell'82, ci sarei andato, però l'ho vista vincere ugualmente l'Italia, però lì grazie a quel no noi fondammo l'allegra brigata, per cui grazie a tanti no della mia vita sono riuscito a scardinare quelle porte, quando succedono queste cose io le auguro a tutti, perché lì dimostrerai, puoi dimostrare quanto vali. Ecco quando ho cominciato il doppiaggio, mi hanno detto no, tu non lo farai mai sto mestiere, era il 79-80, eccolo, trito, trito, anche se il calcio lo amo, teniamo il grande Gino Bramieri, l'abbiamo raccontato prima, e però un applauso va anche al tuo papà, perché ad un certo punto loro hanno bisogno di soldi, hanno bisogno di 6 milioni di lire, nessuno si fa avanti, tranne il papà di Pino. Sì, il papà lo chiamano Profondo Rosso in banca, per cui lui non ha problemi, mi auguro sempre un gran bene, papà è ancora vivo, 91 anni, che saluto papà Armando, e lui chiese un prestito e ci dite questi soldi per cominciare la nostra carriera a teatro da professionisti. Un prestito in banca per voi? 6 milioni, l'abbiamo mai ridati, mai. Tuo padre sì in banca? No, papà non lo so se gli ha ridati, banca ce l'ha sempre dietro mio padre, papà così dice, ti augurano sempre un gran bene, più gli devi di dare i soldi, più loro ti augurano di vive, per cui lui è felice, non so quanti soldi le devi dà, perché c'ha 91 anni, per cui... Scusa, ma è incredibile, solo tuo papà l'ha fatta questa cosa. No, anche nonna mi ha prestato 300 mila lire della pensione, ne ho mai ridati manca. Vabbè Pino, però non lo so, poi... Ci hanno aiutato, ci hanno aiutato. E poi applaudite, cosa applaudite? Ma succede, era una famiglia molto unita, per cui non che gli altri della prima data ditta, gli amici di una vita, che saluto, ringrazio, come... Però vedete a stare 14 nella stessa casa? No, guarda, cresci con un altro sapore, io ogni giorno cerco di insegnare alle persone che mi stanno vicino, ai figli, di svegliarsi con un bel sorriso e cominciare quella giornata, anche se qualcuno dice, c'è da ridere, no, c'è da ridere, sei svegliato, e vivere una giornata, sempre come se fosse la prima volta, non è una filosofia spiccia, è perché è così, cioè la trasmissione, io entro in trasmissione, è la prima volta, vado a fare un doppiaggio, ok, l'ho doppiato 450... Ora su quattro figli sono tutti così belli, sorridenti, allegri... No, sì, lo sono, sì, lo sono perché vivono bene con tutti i rifletti che hanno i genitori, i figli, poi c'è mia moglie che mi insegna a fare il genitore, io faccio l'amico, purtroppo, come tutti i papà. Pensa come si arrabbia, Alessio. Tanto, tanto, e c'è anche ragione, per cui, dico, affrontiamole, andiamo al doppiaggio, ok, speriamo di riuscirci, vengo qui da te, non è che non ho paura o non sto emozionato, io lo sono, non do per scontato che vada bene, perché sono simpatico, perché mi conoscono, no, perché spero soltanto che arrivi questa sincerità, che ormai credo che sia arrivata, nonostante qualcuno voglia disegnare in questi mesi un'estetica che non mi appartiene, da un punto di vista mentale, da un punto di vista emozionale, ma da un punto di vista di scelte, faccio delle scelte, A, B, C. si critica le scelte, ok, non criticare quello che io faccio come attore, come artista o come uomo, il resto va bene tutto. Quindi dopo questo discorso, te lo devo dire, sei veramente cresciuto qui nel segno. Oh, ma è sempre stato un bambino. Sono broccoli! No, no, ma sono broccoli! Oh, Dio! Insegno, Insegno Caterina, ha una storia abbastanza lunga insieme. Vabbè, dillo però perché, in genere. Beh, lo diciamo perché abbiamo lavorato insieme tante volte, mi ha fatto pure doppiare, ho fatto anche del doppiaggio con lui, figuriamoci un po'. Però, proprio in omaggio a te, hai detto delle cose molto giuste sulla televisione di ieri, che è tutta scritta, tutta pensata, non improvvisata. Beh, tu ne sei qualcosa, no? Beh, ne so qualcosa, d'accordo. Il doppiaggio che questa professione antica, per la quale noi italiani siamo in prima linea, noi siamo i primi, siamo i primi. Diciamolo perché, no, broccoli, perché nacque qui, nel 26, il fatto di doppiare, salvaguardare la lingua italiana. Poi noi abbiamo insegnato a tutto il mondo, ormai dalle piattaforme si evince. È una traduzione, come un libro bello si traduce in 200 lingue. E io ti ho portato proprio questo, vi ho portato proprio questo, vi ho portato un signore che si chiama Mario Angelo Zambuto, che è detto a voi, a tutti, magari è meno, ma è la voce di Stanlio, che abbinata a un altro signore, che si chiama Alberto Sordi, è la voce di Onlio. Noi siamo andati a prendere il momento in cui giovani stanno doppiando. Ah, che bello. Guardiamoli insieme un momento. Grazie. Che bello, che bello. Anche perché Zambuto iniziò a doppiare Staglio e Olio, fu Zambuto, a cui venne associato un attore americano da quattro soldi, che non parlava l'italiano, per cui cominciò a fare queste cose, capito, stupido, cioè non riusciva a pronunciare bene. E non pronunciato bene, hanno inventato questo stile, stupido, hai capito? Ed è nata così questa favola, perché questa è una favola meravigliosa di Staglio e Olio. Ma guarda, loro ci ringraziano sempre, gli americani soprattutto, come Woody Allen, doppiato da Oreste Lionello, quando morì. Noi chiamammo Woody Allen e lui disse preparerò subito un saluto. E preparò in un giorno un saluto e disse grazie Oreste, mi hai reso un attore migliore e mi hai veicolato in tutta Europa. Cioè, loro vengono qui, noi siamo un po' il diapason dell'Europa dal punto di vista del doppiaggio. E siamo molto felici. È ovviamente un falso, è una traduzione, ma può veicolare dei film. Ma a volte fa anche molto di più. Se poi pensiamo che Zambuto, lo dico tanto per dire, insegnava fisica teorica all'Università di Verona. È lo stesso che faccio io a tempo perso. No, io questo però invece in parte l'ho fatto. Io ho educazione fisica. E ha insegnato al New Jersey University. Insomma, è un cattedratico noto. Quando si parlava della premiata ditta e della Lega al Brigata e io sono tornato indietro nel tempo e ho visto testi scritti, testi provati, la bravura di entrare uno nei fiati dell'altro, di fare in modo che non ci sia mai una pausa. E mi è venuto in mente un paragone. Ti faccio un regalo, vi faccio un regalo. Con il quartetto c'entra. Tu mi dirai, c'entra poco? No, c'entra per un motivo. Hai detto la nostra giusta, però ho detto, Tata Giacobetti ci venne a vedere a teatro insieme a sua figlia che adesso, signor Giacobetti, ha una grande ufficio stampa, per la mamma, Valeria Fabrizi, che saluta e che adoro. Valeria Fabrizi, come no? Venne lui, perché lei era innamorata di uno di noi, lui impazzì e disse voi siete i nostri nipotini. Chiamò lui, Garinei e Bramieri, per venirci a vedere. Per cui tutto passò tramite il quartetto c'entra. Ma siccome queste cose le conoscichiamo, per cui ho pensato, guardate la bravura di questi signori. Loro adesso canteranno all'unisono, anzi no, in armonia, una canzone, I Ricordi della Sera, una bellissima canzone del 64. Ma ognuno di loro, questa è una cosa che va spiegata non ai musicisti, cantava una cosa in disarmonia, che sembravano stonature, e invece insieme fanno armonia. Sentiamo, sentiamo un momento, sentiamo, dai. Scusate, ma non ho mai assistito alla prova di un quartetto vocale. E mi farebbe tanto piacere potervi sentire. Posso rimanere ovvi di stupo? Ma senz'altro, con piacere. Ci fa piacere. Forse si annoierà un po'. Forse. Sì, perché vede, le prove di un quartetto sono una cosa illogica, strana, non è piacevole. Non capisco cosa ci possa essere di logico e di strano nella prova di un quartetto vocale. Guardi, adesso gliene diamo un esempio. Noi le cantiamo così un brano del nostro repertorio a quattro voci, così com'è. Ecco. Io faccio l'introduzione. Sì, preparate. Il microfono. Ecco, ecco. Sei pronto? Vieni, vieni. Posizione. Posizione. È scesa malinconica la sera Puntando in cielo un riflettore blu Guardate adesso, concentriamoci un momento, guardate come si ottiene questa armonia. E questa è la cosa bella che mi ricorda la premiata ditta. Tra parentesi dico che Guccini, che non è l'ultimo, ha detto che il quartetto Cetra è superiore ai Beatles come armonizzazione. E su questa cosa tendo a credere. Guardate come si ricava questa armonia. Guardate. Aspetti adesso di sentire le voci singole. Ecco, senta la voce di Tata Giacobini. Ecco, senta. Sì. È scesa malinconica la sera Puntando in cielo un riflettore blu Carina, bellina, eh? Sì, è strano. Sì, sì. Senta la mia. Sì. È scesa malinconica la sera Puntando in cielo un riflettore blu Cinese, bellissima, no, è illogico. Grazie, professore. È incredibile. Distonia diventa armonia. Grazie, grazie, grazie professor Brocco e ringraziamo Pino per essere venuto. So che tornerà, se non tornerà lui, tornerà l'essere. Oppure, attenzione, perché metti caso poi veramente non torna più. E io vorrei approfittare della tua voce, visto che comunque due volte hai doppiato Brad Pitt. Sì, sì. Così. Per fare che? Io, guarda, Brad, dobbiamo un po' sognare. Quindi io guardo così, lui arriva e tu sei la voce. Ah. Sei solo la voce. Pino sta per arrivare. Ecco, ciao Baliva. No, scusa, Balivo. Dimmi, dimmi, dimmi. Sono contento che tu abbia invitato Pino Insegno. Ah, la conosci? Però decidi lui o me. No, Brad. Perché il mio corpo è sicuramente migliore del suo e la mia voce anche. No, ma mentre... Per cui hai scelto lui invece di scegliere me, te la vieni del secchio. Me ne vado. Pino Insegno, mi piace in fiera questa sera. Così come tutte le sere su Rai 2, 19.55, più o meno. Grazie. Ciao, Bruno. Buon rientro. Dà un bacio alla vigna e ti salutiamo guardandoti a tale e quale show. No! Sì! Grazie. Ciao, Bruno. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare. A se, te, te, te. Non c'è più niente da fare. Sta dovendo sognare un grande amore sincero. Vieni, vieni, vieni con me. Vieni, vieni con me. Alelai, 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 per la pressa a me. Andamento, rendo. Yeah! Yeah! Hey! Hey, vai! Abbiamo fatto un press, un press! E bravo! Che bello che si, Carlo Co. Che bello che si, Carlo! Che bello! Che bello! Che bello! Che bello!